ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere passo per passo come realizzare questo bellissimo finissimo e semplicissimo accessorio ai ferri un fiore guardate qui l'abbiamo realizzato in alcuni colorazioni diversi con i filati con composizione diversa per appunto far vedere come si presenta con i diversi filati è davvero semplicissimo e molto fine con questo con questa piccola lavorazione potrete andare creare dei piccoli accessori da andare abilire i vostri progetti ancora di più quindi se vi piace possiamo iniziare seguiteci partiamo quindi e andiamo avviare le nostre 33 maglie 33 perché noi faremo abbiamo bisogno di 7 motivi per 4 perché composto di 4 maglie più 3 maglie per realizzare la simetria e più 2 maglie di vivani quindi in totale dobbiamo andare avviare le nostre 33 maglie per il nostro fiore dobbiamo andare a lasciare una cordina un pochino lunga quindi tenete conto di lasciare un filo con una rimanente parte della cordina lunga per la video andiamo fare la video alla nordica tutorial della video alla nordica troverete qui sotto nella descrizione o sopra nei video consigliati ecco qui abbiamo fatto il nostro avvio come vedete abbiamo la cordina più lunga che ci servirà alla fine per creare appunto il nostro fiore ora partiamo con il nostro primo ferro tiriamo fuori uno dei ferri e iniziamo la lavorazione la nostra maglia di vivano noi la spostiamo senza lavorare dopo prendiamo in considerazione le tre maglie successive entriamo dentro alle asole di queste tre maglie e andiamo lavorare una maglia a diritto vedete entriamo da dietro e lavoriamo come se fossi una semplice maglia a diritto però qui dobbiamo attirare un po di più il filo e creare una maglia lunga lavorata a diritto senza far cadere tre maglie subito dopo facciamo un gettato rientriamo di nuovo nell'asolo di tre maglie e rifacciamo una seconda maglia sempre lunga lavorata senza far cadere ancora secondo gettato e rientriamo di nuovo dentro alle tre asole che si trovano ancora sul ferro di sinistra ma che stiamo lavorando ricaviamo un'altra maglia lunga ed ecco guardate che da tre maglie normali abbiamo ricavato cinque maglie lunghi di cui abbiamo tre maglie lavorate e due gettato ora la quarta maglia guardate dobbiamo andare con il ferro di destra entrare sotto nel nostro progetto e da di dietro entrare nella asola della nostra quarta maglia del nostro motivo agganciarla senza lavorare fare questo movimento in cui giriamo la maglia la rimettiamo sul ferro di destra spostiamo il nostro filo e andiamo a lavorare una semplice maglia a rovescio ed ecco il nostro primo motivo perché come abbiamo detto composto da quattro maglie però abbiamo fatto un aumento e sono diventate sei ora stessa cosa vediamo anche il secondo blocco del motivo andiamo entriamo di nuovo in asolo di queste tre maglie ricaviamo una maglia lunga lavorata a diritto senza far cadere le maglie tre maglie che si trovano fu ferro di sinistra un gettato rientriamo di nuovo dentro all'asolo di queste tre maglie una seconda maglia sempre lunga secondo gettato e rientriamo un'altra volta nelle nostre tre asole ricaviamo terze maglie lunga lavorata a diritto ecco qui tre maglie lavorate e due gettati quindi da tre sono diventate cinque maglie lunghe ora andiamo a fare il giro girare la nostra quarta maglia andiamo con il nostro ferro di destra passiamo sotto agganciamo la nostra maglia da di dietro la giriamo rimettiamo sul ferro di sinistra e andiamo lavorarla a rovescio normale e così vedete abbiamo già due motivi dobbiamo procedere con questa lavorazione per tutto il nostro ferro ecco qui abbiamo fatto tutto il nostro primo ferro e si presenta così giriamo il nostro lavoro e ora il nostro secondo ferro noi dobbiamo andare a lavorare tutto a rovescio tutte le mali anche i nostri gettati la male di vivare la spostiamo e partiamo con la lavorazione delle maglie tutte a rovescio ecco qui abbiamo fatto anche il nostro secondo ferro e così si presenta il nostro progetto ora dobbiamo andare a fare terzo e ultimo ferro in cui andremo a chiudere le nostre maglie le andiamo chiudere nel modo classico entriamo in asola di due maglie e ricaviamo un'unica maglia lavorata a rovescio guardate da due ne ricaviamo una lavorata a rovescio rimettiamo il nostro ferro su ferro di sinistra così è pronto di nuovo per essere lavorato e così andiamo finché non chiudiamo le cinque maglie due tre quattro cinque ecco qui abbiamo chiuso le nostre prime maglie e anche la maglie di vivare ora la maglia che lavoravamo a rovescio dobbiamo andare prima di chiuderla a fare la stessa operazione che abbiamo fatto prima quindi andiamo sotto il nostro lavoro entriamo nella maglia da di dietro la ganciamo senza lavorare facciamo giro in questo modo la rimettiamo sul ferro di sinistra facciamo ricadere il nostro filo e ora andiamo a fare la semplice chiusura come abbiamo fatto finora a rovescio da due ricavando una ed ecco qui primo petalo è pronto vedete che meraviglia ora dobbiamo andare procedere così andiamo a vedere anche il secondo insieme uno seconda chiusura due rientriamo di nuovo in due tre quattro cinque e ora vedete siamo arrivati di nuovo alla nostra maglia che abbiamo lavorato particolarmente girando quindi anche qui prima di chiuderla andiamo a fare il giro nello stesso identico modo come l'abbiamo lavorato nel ferro numero uno passiamo da di dietro da di sotto giriamo la male senza lavorarla rimettiamola sul ferro di sinistra già girata e andiamo a fare una semplice diminuzione a rovescio ed ecco anche il secondo petalo è pronto guardate che meraviglia come sta già prendendo la forma così procediamo per tutto il ferro diminuendo in questo modo le nostre maglie e dando la forma dei petoli ed ecco qui così si presenta appunto il nostro futuro fiore dopo che l'abbiamo fatto i nostri tre feri creando realizzando i pettoli e la base del futuro fiore ora a questo punto noi andiamo a ricorrere alla cordina che avevamo lasciato più lunga e anche all'ago per l'ana una volta che abbiamo tutto pronto iniziamo dando la forma al fiore in questo modo e ora iniziamo a cucire per farli tenere uniti insieme con questa semplice cucitura grazie a tutti ed ecco qui il nostro fiore è pronto si presenta in questo modo che potete poi andare con la spila a chiudere come preferite speriamo che questo video vi è piaciuto che siamo riusciti a spiegarvi tutti i passaggi in modo chiaro iscrivetevi al nostro canale per non perdere tantissime altre novità in arrivo e qui abbiamo un bouquet di fiori realizzato con i colori diversi grazie a tutti e al prossimo video tutorial